ben trovati da andrea lazzara con le previsioni del tempo di arpal continua questa fase prettamente invernale sulla liguria con allerta meteo per neve sulle zone b di ed e dopo la conclusione dell'allerta arancione alle 15 si passa in gialla finale 18 domani sabato 3 marzo dalle 6 alle 15 allerta arancione per le zone di ed e gialla per i comuni dell'interno di b la perturbazione che sta attraversando la liguria ha portato ancora precipitazioni residue sulla nostra regione nel corso del pomeriggio ritorno del sole a ponente mentre levante il cielo si manterrà coperto con brevi schiarite venti da nord anche forti in rotazione da sud ovest mare molto mosso agitato temperature massime in aumento lungo la costa tra 4 e 10 gradi nell'interno tra meno 1 e 4 gradi domani sabato 3 marzo un nuovo sistema perturbato arriva da ovest e porta già nelle prime ore del mattino deboli precipitazioni sull'imperiese i fenomeni si estenderanno rapidamente a tutta la regione saranno a carattere nevoso nell'interno del centro con possibili locali rovesci miglioramento a partire da ponente nel pomeriggio con precipitazioni in esaurimento e schiarite via via più consistenti venti meridionali moderati o forti in rotazione da nord e in rinforzo fino a burrasca mare molto mosso agitato al mattino a levante temperature minime in aumento lungo la costa tra 0 e 4 gradi nell'interno tra meno 3 e 4 gradi massime in aumento lungo la costa tra 6 e 11 gradi nell'interno tra 1 e 6 gradi domenica 4 marzo cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata con addensamenti in intensificazione nel corso delle ore fino a coprire completamente il cielo nemmeno in questa giornata mancheranno le piogge che saranno deboli potranno assumere carattere di rovescio i fenomeni interesseranno dalle ore centrali il ponente per estendersi poi e tutta la regione in serata 20 dai quadranti orientali fino a moderati in rotazione da nord e in rinforzo fino a forti la sera mare molto mosso in calo fino a mosso temperature minime in aumento lungo la costa tra 2 e 5 gradi nell'interno tra meno 3 e 4 gradi massime in aumento lungo la costa tra 8 e 12 gradi nell'interno tra 4 e 8 gradi è tutto seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di arpal buon fine settimana a tutti